Buccio! Partito! Veloce all'interno Dr. Cini che si porta subito in vantaggio pedinato da Borghese Gallery e da Musa de la Srocca. Poi ancora nelle prime posizioni Optical si fa sotto anche City Hunter che è quinto. Poi ancora per corsia interna l'avanzata di Little Rainbow su Keyboard più arretrato Giacchini che non ha colto un buonissimo break. In avanti Musa de la Srocca che nel frattempo ha incrementato il suo margine spingendo via in maniera molto decisa. A secondo posto in giuba bianco-verde Dr. Cini al cui fianco avanza adesso Borghese Gallery in giuba maranto-nera. Optical favorita è quarta viaggiando di fuori con il cap rosso all'interno invece curvato City Hunter seguito da Little Rainbow con l'altra giuba gialla e gli altri più arretrati. Musa de la Srocca prova una fuga a traguardo lontano su Dr. Cini e City Hunter che si avvicinano all'interno. Optical risale per vie larghe invece. C'è anche Borghese Gallery della partita e gli altri più arretrati con Giacchini che prova il recupero. Optical che scatta all'argo di Dr. Cini che nel frattempo è passato in vantaggio. I due si staccano rispetto a City Hunter e Borghese Gallery. Optical che aggancia il suo avversario all'ultimo farlo, lo vola via. Optical che sta aumentando i giri e Optical che viene a concluderne più facile dei modi. A secondo posto Dr. Cini e al terzo Giacchini insieme a Keyboard. Optical che colpetta il tutto, Dr. Cini in chiaro secondo, Giacchini che respinge Keyboard per la terza moneta. Tutto secondo copione dunque con il successo di Optical. Antonio Fresu a mezzo per la scudoria di Oscuri ai colori. Stefano Botti al training. Netta favorita al betting e poi netta. Grazie a tutti.